Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e provincia su rietilife.com, facebook e instagram. Non si ferma lo spaccio nei boschi e nelle aree verdi del Reatino. Non si fermano però neanche le forze dell'ordine. Nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile della questura di Rieti hanno arrestato un cittadino marocchino nei 22 anni per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al centro dei controlli e del blitz, via Acqua Martina a quattro strade, divenuta luogo di spaccio e segnalata dai cittadini nonché attenzionata dalle stesse forze dell'ordine. Il 22enne durante l'operazione ha aggredito uno degli agenti, ferendolo, ma una volta bloccato è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina, 50 di hashish e 40 di eroina. Nonché di tre smartphone, di un coltello da cucina, di 960 euro in contanti, frutto dello spaccio e di materiale utilizzato per la preparazione, il peso e il confezionamento delle dosi da spacciare. Gli investigatori reatini hanno anche accertato che uno degli smartphone sequestrati apparteneva ad una tossicodipendente reatina che lo aveva lasciato in garanzia. Lo straniero che aveva fatto ingresso in Italia sbarcando nel 2021 a Lampedusa ora si trova in carcere. Rinvii, nuove date e aggiustamenti, ma alla fine ci siamo come da ultimi annunci del Comune. Il Marconi si sposta temporaneamente, ma non per meno di quattro anni, per i lavori di ristrutturazione antisismica da quasi 13 milioni. Nuova sede non lontano, inviamo i sedi Gaio nella grande struttura in fondo alla via, a ridosso della ferrovia, che già in passato ha ospitato altri istituti. Un'iniziativa della regione, dell'ufficio scolastico regionale, col supporto del Comune di Rieti. Il sindaco Daniele Sinibaldi e l'assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli, insieme a dirigenti e tecnici, hanno effettuato oggi un sopralluogo nella struttura. Da settembre, hanno detto Chiarinelli e Sinibaldi, i ragazzi potranno continuare la scuola senza alcuna interruzione e inizieranno i lavori di adeguamento sismico del Marconi, che rappresentano il primo di una serie di interventi di adeguamento sismico delle scuole reatine, finalmente sbloccati dopo tanti, troppi anni di ritardi. Un altro giorno di AFA e caldo, poi le temperature si abbasseranno. Nella giornata di domani continuerà la grande AFA con il caldo torrido che sta attanaiando il reatino, temperature fino a 40 gradi, mentre nel weekend il termometro scenderà nelle minime e nelle massime, rendendo sicuramente l'estate più gradevole. 32 gradi, infatti, sarà il massimo di sabato e di domenica, si scenderà anche al di sotto dei 30. Ad inizio della settimana, secondo tre bimeteo, potrebbe tornare la pioggia, lunedì addirittura un temporale, mentre martedì e mercoledì piogge deboli. Un territorio cardioprotetto, come la provincia di Rieti, grazie ai nuovi defibrillatori donati dalla Fondazione Marrone a comuni, comunità montane e associazioni sportive. A Palazzo Potenziani la cerimonia di consegna da parte del presidente Mauro Trilli e del segretario generale Brunella Lilli, ai comuni di Cantalice, Pesco Rocchiano, Cantalupo, Colleditora, Cottanello, Poggio Mirteto, Poggio Moiano e alla Willy Basket, che rappresenta quella fetta di società sportive che hanno beneficiato dell'iniziativa della Fondazione. Un defibrillatore è stato assegnato anche alla quinta comunità montana. La donazione è frutto del progetto di cardioprotezione della provincia di Rieti, lanciato lo scorso anno dalla Fondazione, a cura dei consiglieri Carlo Boc e Mario Santarelli, peraltro due medici, presenti anch'essi alla cerimonia e si inserisce nel solco della grande attenzione che l'ente ha sempre riservato a questa materia. Lo sport, l'atletica, gli assoluti alla spezia e poi forse una gara a Rieti poco prima delle Olimpiadi. Sono gli impegni di Marcel Jacobs, prima di prendere parte proprio alle Olimpiadi di Parigi, ai giochi di Parigi 2024. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il campione olimpico ed europeo ha rivelato quando e quale gara affronterà prima di arrivare appunto nella capitale francese. Ripresi gli allenamenti al Guido Baldi, dopo essere sceso per ben due volte sotto i 10 secondi a Turcu, state vedendo le immagini della gara, con 9,99 e con uno straordinario 9,92, l'atleta delle Fiamme Oro gareggerà alla Spezia agli italiani assoluti il 29 e 30 giugno. E al massimo, questa è proprio una citazione dell'atleta delle Fiamme Oro, il 12 e 13 luglio penso a una verifica agonistica a Rieti con gli sprinter del mio gruppo, ha detto Jacobs. Il percorso verso Parigi continua dunque insieme al gruppo di Rana Raider e ovviamente tutto al Guido Baldi, sempre più al centro dell'atletica nazionale e internazionale. E con questa notizia si conclude il nostro telegiornale che torna domani alle 20.45. Rimanete informati con i nostri siti e con il nostro free press e seguite Rieti Life TV. È davvero facile guardare tutta la nostra programmazione, basta cliccare sul bottone accanto al nome della nostra testata su rietilife.com. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Luciano Mancini. Buona serata. Grazie a tutti.